cosa ne pensa lei diciamo della della società di oggi cos'è una cosa che le dà fastidio particolarmente della società di oggi mi dà fastidio che noi pensiamo sempre che sia colpa degli altri e non colpa nostra è diventata una buffonata invece una cosa positiva e lascio perdere ci sarà quando è la dica la dica no ma quando la finisce di stronzate non c'è una cosa positiva perché noi lasciamo perdere i politici lasciamo perdere noi genitori non o noi che andiamo a votare non facciamo una cosa di di giusto quindi bene allora ciao 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 ciao